Musica Cari telespettatori siamo di nuovo in diretta per una puntata di Primo Cittadino questa sera ci occuperemo della città ducale del comune di Urbino ma terremo una finestra sempre aperta su Pesaro dove è in corso una protesta vi abbiamo mostrato anche poco fa nel corso del nostro telegiornale immagini e interviste vado subito a salutare il sindaco di Urbino Maurizio Gambini buonasera sindaco e bentornato sono già tanti telespettatori sindaco che ci stanno inviando messaggi per commentare un po' quello che sta accadendo e poi insomma vi racconteremo anche quello che ci state dicendo e scrivendo vi ricordo i numeri di telefono 0721 86 14 33 per intervenire in diretta e quindi porre anche delle domande al sindaco oppure 338 49 68 250 per inviarci dei messaggi anche con whatsapp andiamo subito allora a Pesaro ci colleghiamo con la nostra troupe che sta seguendo la protesta di esercenti e ristoratori che sono scesi in piazza del popolo per manifestare la loro contrarietà a questo decreto al DPCM che è stato firmato dal Premier Conte vedo Angelica Panzieri che è sul posto insieme all'operatore Stefano Barnesi che cosa è successo Angelica in questi ultimi minuti? So che è intervenuta la polizia sì in questi ultimi minuti è arrivata la polizia, hanno iniziato a fare i controlli dentro il locale hanno controllato il ristoratore Umberto Carriera però al momento le persone sono rimaste tutte sedute al tavolo e hanno continuato a mangiare, hanno iniziato a fare i cori, a dire libertà, libertà e diciamo la cena sta proseguendo, sta andando avanti quindi da domani il ristoratore continuerà la sua attività e aprirà ce l'abbiamo qui con noi sì, voglio correggerti, non ha fatto nessun controllo, non mi ha chiesto i documenti, non ha chiesto i documenti a qualcuno? non ha chiesto i documenti a nessuno, sono entrate, sono persone umane come noi, sono lì dentro, aspettano che finiamo la cena quando tutti i clienti hanno avuto anche il dolce, il caffè, l'amorete, il digestivo, quello che vogliono come i giorni normali di ristorante, di apertura ristorativa, poi quando tutti vanno via, hanno pagato il conto noi chiuderemo, faremo questo ecco avete sentito, stanno aspettando qui di fuori le forze dell'ordine e la gente ancora sta continuando a cenare ecco sì, dicevo appunto, non so se mi avete sentito, vedevamo questo dispiegamento di forze dell'ordine la serata dunque sta proseguendo scusate, fatela a mettere dentro, che canale è questo? 17? sì, la serata sta proseguendo, esatto ci sono 88 persone sedute che stanno cenando nonostante i controlli vorrei leggerti alcuni messaggi che ci hanno scritto nel corso del nostro telegiornale tanta gente che è assembrata davanti al ristorante senza mascherina è ancora un metro di distanza tra i vari commensali, non lo vediamo i nomi dei clienti che poi potrebbero ammalarsi, così ci dicono poi dopo che cosa succederà? sono stati presi i nominativi delle persone che sono presenti questa sera nel locale? non sono stati ancora presi ma c'è tanta gente anche qui fuori davanti al locale tutti a sostenere il ristoratore se volete li possiamo anche sentire assolutamente sì, sentiamo le loro voci ragazzi, perché siete qui stasera? perché vogliamo lavorare, il nostro diritto è tutto qua vogliamo tenere aperto, tutti noi dobbiamo tenere aperto tutto questo, sempre e basta andiamo pure avanti, vogliamo anche sapere quali categorie rappresentano è il nostro futuro, noi siamo i giovani e dobbiamo andare avanti con il nostro futuro siamo a decidere scusate ragazzi, a che categoria appartenete? ristorazione, baristi, ristorazione ristorazione che avete chiuso del tutto, siamo senza lavoro, senza niente, senza sostegno, ok? senza la cassa integrazione dobbiamo pagare lo stesso, dobbiamo pagare lo stesso tutto noi, tutto dobbiamo pagare come vedete stanno continuando a protestare anche fuori dal locale lei è un barista? io sono un cameriere sono non possono rimanere chiuso perché lavorare è il nostro diritto, c'è scritto sulla Costituzione c'è scritto articolo 4 sono una categoria che ha sofferto tanto anche nei mesi passati il governo sta tenendo tutta norma tutto come era stato detto dal governo distanze normative, igienizzanti ho speso migliaia di euro e adesso deve essere costretto a chiudere le 18 e perdere tutte le seri clienti e c'è un figlio e c'è una famiglia da mantenere non è giusto e non è giusto e non è giusto perché se lavorare è un diritto pagare le tasse è un dovere, allora lavorare è un diritto e non è giusto Angelica puoi chiedere al ragazzo se questa protesta non è una protesta, scusami, posso parlare è un buon senso è un buon senso questa protesta proseguirà anche nei prossimi giorni che cosa faranno? però penso anche o non si può assicurare, fidati scusate però si deve pensare anche agli altri bisogna avere anche umiltà un minimo di altruismo, di cuore perché la gente come Umberto che ha investito tutto non può ritrovarsi a chiudere e a perdere tanti soldi e a non potersi costruire un futuro dopo tutti i sacrifici potete dirci se la protesta proseguirà nei prossimi giorni che cosa farete? qual è il prossimo? la protesta la protesta la protesta la protesta proseguirà però noi come Umberto che è un uomo io lo conosco al tempo civile educato rispettoso di cuore ha una dignità è uno è uno che è disposto al dialogo è disposto ha messo la faccia per tutti non è stato facile ma ma è uno è uno che il cuore rispetta la gente e vuole giustizia perché non è giusto che un ristorante che ha tutte le normative per essere in regola non può essere aperto e magari vedi tram i treni o altre strutture che sono strapieni che però vanno però però queste cose vanno in tasca allo Stato i soldi quando invece vanno in tasca le persone che si fanno il culo e hanno dato la vita come lui risparmiando quelle poche cose non è giusto non è giusto Allora Angelica intanto alle tue spalle vedo persone non solo di Pesero ma anche provenienti dalla città di Fano vorrei fare rispondere sì prego sentiamo quest'altra testimonianza ci hanno fatto delle chieste delle regole come risposta c'è stata data la chiusura sì prego ci hanno dato delle regole è stata rispettata delle regole come risposta abbiamo avuto la chiusura ci hanno chiesto i plexiglass ma ci hanno chiesto di mettere i dosatori per pulire ci hanno chiesto la distanza ci hanno chiesto sei persone in un tavolo ci hanno chiesto quattro persone in un tavolo è stato rispettato tutta ci hanno promesso aiuti non vogliamo aiuti non vogliamo la carità vogliamo la dignità vogliamo poter lavorare e essere aperti la cosa scusate la cosa che è stata detta al prefetto oggi è stata perché un ristorante aperto a pranzo è a norma e un ristorante aperto la sera non è a norma poi l'abbiamo detto signor questore signor prefetto secondo lei due, tre, quattro cinque mila persone che andavano al ristorante a sabato sera secondo lei stanno a casa fando fuori non è peggio rispetto a che star seduti rispettando le norme poi faccio un esempio gli anziani che andavano in palestra secondo lei se tenete chiuse le palestre ah scusi se tenete se tenete chiuse le palestre la gente sta a casa sta meglio questo abbiamo detto questo abbiamo chiesto non vogliamo carità ma solo dignità e poter lavorare come si è scritto la Costituzione Angelica prima di chiedere al sindaco Giurbino che cosa ne pensa anche di questa protesta e del DPCM vorrei se c'è ancora vicino a te Umberto Carriera a fare rispondere appunto Umberto su quello che ci è arrivato in questo momento c'è chi ci scrive è uno scandalo che nessuno intervenga di forza poi affolleranno le terapie intensive a discapito di chi ha rispetto per il prossimo e per chi lotta per la vita quindi devono scontare una pena esemplare cioè sostanzialmente se non mi hai sentita qualcuno che sta contestando questa forma di protesta eccolo qua magari allora glielo rileggiamo se puoi riportargli questo messaggio ci scrivono dicevo è scandaloso che nessuno intervenga di forza poi affolleranno le terapie intensive a discapito di chi invece ha rispetto per il prossimo e quindi anche per chi lotta per la vita è scandaloso che nessuno intervenga di forza in una manifestazione dove ci sono così tanti assembramenti poi affolleranno le terapie intensive questa è una delle critiche che è appena arrivata in redazione che cosa ci dice? che siamo tutti distanziati abbiamo tutti la mascherina dentro abbiamo messo 20 persone in meno rispetto alla capienza massima stiamo rispettando assolutamente tutti i protocolli se volete domani mattina andate davanti alla fermata di scuola di mio figlio guardate quanti bambini salgono sull'autobus quanti bambini salgono sull'autobus quanti ragazzi salgono sugli autobus per andare alla scuola superiori lì il contagio lì ci sono gli assembramenti qui rispettiamo tutte le norme semplicemente vogliamo solo lavorare è un nostro diritto alla costituzione ci dice questo vogliamo lavorare nient'altro Angelica ci ricolleghiamo tra poco vorrei comunque dirti che ci stanno arrivando anche tanti messaggi di solidarietà e vicinanza Umberto come esempio per tutta Italia rimanete collegati il sindaco ha visto insomma questa protesta ci sono persone provenienti da tutta la provincia nella città di Pesaro che cosa intanto ne pensa? Beh io credo che questi queste proteste c'erano da aspettarselo perché sicuramente chi gli viene tolto il lavoro gli viene tolta la possibilità di farvi la propria famiglia è una cosa che non è difficile da contestare però devo dire che noi amministratori abbiamo una grande responsabilità una responsabilità se ci ricordiamo quando il primo ministro due settimane fa mi pare circa ha chiuso solo fino a mezzanotte in tutta Italia ma aveva dato la disponibilità la responsabilità agli amministratori locali di calibrare sulla propria città sul proprio territorio le misure da prendere più restrittive è stato un coro compreso Lanci il presidente del Lanci nazionale che ha detto questo è uno scaricare sopra i sindaci io non sono di questo parere perché io ho chiuso a Urbino i ristoranti e i locali a mezzanotte prima ancora che arrivasse il DPCN esatto anticipato perché perché aveva una situazione di pericolo quella situazione di pericolo era Urbino sicuramente era Urbino al centro storico non era nella periferia non era Canavaccio non era uguale a Fermignano Urbagna quindi io è stata una presa di posizione di non responsabilità secondo me degli amministratori locali perché è chiaro quando ci sono da fare delle misure impopolari è difficile fare l'amministratore quindi ecco io credo che invece aver calibrato un po' meglio ma sulla scia di quella che era il DPCM di due settimane fa sarebbe stato un po' meglio ecco io credo che comunque questi esercenti io nella vita faccio l'imprenditore so benissimo cosa vuol dire averle ricevute da pagare i dipendenti da pagare a fine mese e non avere le risorse economiche quindi è chiaro che il governo deve intervenire in modo esemplare non come ha fatto finora perché finora l'intervento del governo è stato più a pannaggio delle amministrazioni locali e qui vorrei aprire poi se me lo permette un capitolo che hanno avuto delle risorse che non sanno neanche come spenderle proprio perché non ci sono le direttive adeguate ma in ogni caso quindi si doveva fare di più in questi mesi? si doveva fare di più cioè i famosi 400 miliardi la potenza di fuoco che il primo ministro ha detto io non credo che sia arrivata nelle aziende se non in quelle aziende che avevano così in qualche modo la possibilità di accedere a finanziamenti e quindi avevano diciamo in qualche modo la possibilità di accedervi anche da soli perché le imprese che invece erano magari avevano bisogno di aiuto non sono arrivati gli aiuti non sono arrivati i finanziamenti a tasso agevolato o a tasso zero quello che era stato promesso dal governo perché purtroppo io lo dico a questi a questi ragazzi a questi ristoratori ai camerieri purtroppo il problema del covid è serio e Pesaro è una città che ha pagato a caro prezzo magari le feste che si sono fatte invocate anche da qualche amministratore ecco io credo che chiaro che essere nelle panni di chi governa il paese di chi governa le regioni di chi governa le città non è facile in questo momento quindi era meglio evitare anche gli eventi nei mesi estivi cioè diciamo che non nei mesi estivi ma se vi ricordate bene a primavera quando è passato il primo è stato detto la prima ondata non c'era probleme che si doveva continuare a vivere e i risultati io lo dico a questi ragazzi che capisco la loro rabbia ma capisco anche le famiglie che hanno avuto nella terapia intensiva persone che invece non sono tornate neanche a casa purtroppo molti e quindi ecco io credo che vadano ascoltate queste persone si poteva a mio avviso fare una misura meno restrittiva e magari anche mettendo dei distanziamenti maggiori mettendo una cadenza più lunga chiudere alle 9 anche anziché alle 6 del pomeriggio alle 18 perché credo che 18 vuol dire come chiudere i ristoranti alle 2 del pomeriggio alle 3 del pomeriggio era uguale perché è chiaro che alle 18 è un orario un po' strano specialmente per i ristoranti ecco quindi però ecco l'errore io lo dico non è popolare dirlo fra i miei colleghi ma secondo me quando è uscito il primo DPCM bisognava calibrare che a Pesaro al centro storico c'è una regola a Urbino al centro storico un'altra e quindi calibrare gli interventi sul territorio a seconda di quello che era necessario fare perché così dal governo centrale dalla prospettiva nazionale non si poteva fare altro che sparare un colpo solo e diciamo colpire tutti i cittadini a livello nazionale e non è facile lei ha bloccato anche per tempo i giovedì studenteschi ed è sceso addirittura in piazza proprio in questi giorni per verificare quale fosse la situazione io non ho bloccato in tempo perché c'è stato un giovedì che purtroppo io non ho chiuso il primo in realtà che io dal primo giovedì che ho avuto un problema importante avevo deciso di fare il decreto di fare l'ordinanza però mi sono fermato perché se vi ricordate il governo aveva detto che chiudeva le 11 avrebbe fatto delle misure poi che non ha mai fatto il giovedì dopo io alla mattina alle 8 perché poi oggi confrontandomi con altri amministratori dice ma ci vuol tempo io alla mattina alle 8 abbiamo deciso insieme al prefetto che ringrazio perché veramente sempre molto puntuale alle 10 del giorno avevo emanato l'ordinanza quindi se c'è un'azione da fare sul territorio gli amministratori locali sindaci sanno bene dove farla e questo è quello che serve un amministratore ecco vediamo alcuni scatti di quella serata sono state elevate comunque anche delle multe giusto? sì sono state elevate delle multe e devo dire che il problema si è molto moderato contenuto adesso in questi giorni non ci sono stati grossi problemi sicuramente c'è un controllo ho avuto anche più forze dell'ordine dalla prefettura in quelle serate quindi diciamo che il problema è molto rientrato purtroppo c'è necessità perché inutile avere distanziamento nelle aule dove si fa lezione all'università dove si fanno lezioni nelle scuole nel superiore a tutti i livelli e poi magari uscire io ho fatto anche un'altra ordinanza prima ancora che uscisse quella del ministero l'obbligo della mascherina nelle fermate degli autobus perché prima ancora che uscisse tutto il resto dal ministero io l'ho già fatta perché ho visto che il problema si creava negli assembramenti tra il percorso tra le scuole e le fermate degli autobus e quant'altro e quindi pochi verbali in quei luoghi alla fine risolvono la problematica quindi io credo che adesso non so cosa succederà perché le proteste sono a livello nazionale in molte città perché veramente è una situazione critica per gli imprenditori e per i loro dipendenti e quindi si dovrà necessariamente capire come fare per tutelare tutti ecco però adesso le conseguenze vengono pagate da diverse categorie non era come sostiene qualcuno meglio fare prima delle sanzioni dei controlli e poi multare che effettivamente queste norme non le rispettava ma sicuramente però vedete io ho vissuto nella mia città come ha detto lei sono andato personalmente dentro i luoghi della Movida e fare dei controlli e delle sanzioni in quei momenti non è così facile forse a volte è più pericoloso che non farlo perché a un certo punto quando c'è una situazione di aggregazione di persone di concentramento di persone in un luogo fare i controlli magari anche con qualcuno che ha bevuto un bicchiere di più non è può essere pericoloso quindi bisogna sempre cercare di prevenire queste situazioni non si può ecco è chiaro che vanno fatti gli interventi e purtroppo vanno sanzionate le persone che non che non rispettano le regole perché noi non ci possiamo permettere qui credo che siamo possiamo essere tutti d'accordo che non possiamo permetterci di far dilagare il virus in modo incontrollato perché veramente sarebbe io credo che tutti quanti noi abbiamo una famiglia dei genitori e di nonni e pensare che non pensiamo a queste persone che magari sono più a rischio io credo che sia da irresponsabili è chiaro che dobbiamo calibrare meglio però calibrare meglio lo ripeto è stato un elemento che a me ha fatto molto male che diciamo abbiamo detto il governo centrale deve decidere è chiaro che se il governo centrale vede che a Napoli c'è un problema alle 6 del pomeriggio fa la regola per le 6 del pomeriggio ma colpisce anche quelli di Canicattì è normale di diversificare un po' prima di tornare un attimo su Pesaro vorrei leggerle anche alcuni messaggi i commenti che stanno arrivando sulla nostra diretta diretta Facebook non sempre è stato così ma stasera il sindaco di Urbino ha onestà intellettuale specie sulle prerogative dei sindaci poi ci sono tanti altri ristoratori che ci dicono mancano le distanze altri che si lamentano per il fatto che comunque dovranno pagare tasse bollette e quindi saranno delle spese ingenti da dover affrontare peraltro al momento soltanto con delle promesse da parte dello Stato di contributi che arriveranno dicono di sì però finché non si arriva ai fatti effettivamente si fa difficoltà ancora a credere a questi aiuti e le chiedono più controlli nel centro commerciale Santa Lucia i ragazzi non rispettano il distanzamento ma nemmeno l'uso corretto della mascherina sì per questo caso abbiamo conoscenza e c'è stato rilevato questo fatto e ci sono stati messi sia dal centro commerciale che da noi in collaborazione delle guardie notturne anche dei controlli maggiori che abbiamo intensificato in queste ore anche per l'obbligo del controllo per i centri commerciali che sono stati introdotti da questo DPCM abbiamo il collegamento? mi dica Sindaco prego intanto lo predisponiamo è chiaro che parlava appunto di di onestà di onestà intellettuale se non ricordo male ma anche del fatto che mi aveva fatto un'altra domanda poi mi sono perso nella guardi le releggo dal cittadino perché infatti era una cosa puntuale non sempre è stato così ma stasera Sindaco di Urbino ha onestà intellettuale specie sulle prerogative dei sindaci questo è il commento sì questo è chiaro questo purtroppo fare l'amministratore quando quando si fanno decisioni popolari è facile il problema è quando si devono fare delle cose impopolari è chiaro che i cittadini si ha credibilità e il governo centrale l'ha persa proprio perché non ha fatto quello che aveva promesso di fare rispetto a questi imprenditori questi ristoranti diciamo tutti tutti i esercizi commerciali aveva promesso grandi cose e alla fine sono arrivate poche cose ormai in questa fase in questa seconda fase la credibilità se le spese il governo e quindi non avendo più credibilità non c'è più fiducia non c'è più fiducia e quindi la mancanza della fiducia comporta che le persone poi fanno le cose che abbiamo visto e dalla paura si è passati alla rabbia e quindi dalla paura si è passati alla rabbia e quindi questo credo che sia un aspetto molto importante guardate io nella prima fase ho vissuto nella mia città siccome ho imposto delle regole ferre subito non so qualcuno magari se lo ricorda e i cittadini hanno capito subito che era una cosa seria che andava affrontata con serietà e si sono comportati in modo esemplare nella prima fase quindi credo che lo stanno facendo anche in questa fase le chiedono se per il mercato del sabato c'è qualche nuova disposizione oppure rimarrà uguale aumenteranno i controlli si svolgerà i controlli sicuramente saranno aumentati per ora non ci sono disposizioni se non mi vengono rappresentate io poc'anzi priva di venire qua il nostro comandante dei vigili urbani che del nostro comando dei vigili urbani che mi ha detto che non ci sono stati problematiche questa sera ad Urbino per le chiusure quindi mi ha comunicato proprio con un messaggio poco fa che non ci sono stati problemi tutto sotto controllo e quindi le persone hanno rispettato anche se non condiviso come non lo condividono credo appeso da altre parti però questo è un sintomo di correttezza degli esercenti nei confronti dell'amministrazione pubblica andiamo andiamo subito a Pesaro colleghiamoci Angelica vediamo insieme a te un'altra persona che ha voglia di riportarci suppongo la sua testimonianza sì esatto qui con noi abbiamo un istruttore di ballo venuto da Fano appositamente per manifestare in sostegno del ristoratore Umberto Carriera e a sostegno della sua categoria perché è venuto qui che cosa ci può dire allora non abbiamo condiviso un pasto non abbiamo condiviso una pizza abbiamo condiviso un ideale perché io rappresentando anche gli altri della mia categoria comunque sia credo di essere stato tra quelli più colpiti la nostra categoria è stata colpitissima da quest'ultimo decreto noi non possiamo stare aperti neanche a mezzogiorno abbiamo da prima dovuto ridurre le capacità dei nostri corsisti ad un quarto e non è bastato abbiamo dovuto spendere un sacco di soldi un sacco di tempo per adeguare i nostri corsi alle normative e adesso oltre al danno pure la beffa nel senso che non possiamo più neanche far lezione con quel poco di gente che c'era rimasta che tra l'altro nella mia disciplina nove su dieci sono coppie che già stanno insieme coppie che magari convivono già tra di loro quindi marito e moglie che abitano assieme quindi distanziati all'interno delle sale da ballo non vedo perché non potevano continuare a godersi un minimo di spensieratezza e di allegria e quindi appoggiamo questa iniziativa a pieno proprio perché Umberto questa sera ha preso diciamo voce per tutti quanti noi difendendo quello che è un principio intoccabile perché in questo momento siamo rimasti senza lavoro proprio completamente fermi e non mi sembra giusto io sarei più per i controlli cioè metteteci nella condizione di lavorare fateci i controlli problemi non ce ne sono se sbagliamo diteci anche dove sbagliamo miglioriamo però non possiamo assolutamente fermarci quindi quello che voi volete arrivare a dire è che le scuole di ballo sono luoghi sicuri assolutamente sì sono stati spesi un sacco di soldi un sacco di tempo per cercare di fare le cose nella maniera più meticolosa possibile e io so che hanno fatto così anche i miei colleghi perché ci siamo confrontati un sacco di volte non sapendo come muoverci non sapendo come fare e tutti quanti siamo nella stessa identica disperata situazione tra l'altro una situazione che ci mette anche in difficoltà perché abbiamo ad esempio i corsisti che hanno pagato gli abbonamenti per l'ennesima volta non possono praticare e quindi si lamentano giustamente cercando di capire quando potranno tornare quando non potranno tornare ed è una situazione inaccettabile ecco avete protestato oggi quale sarà il prossimo passo che cosa accadrà da domani cercheremo in tutti i modi di riuscire a ritornare in piedi nel più breve tempo possibile per recuperare perlomeno quel minimo numero di praticanti per sostenere le spese perché anche noi di spese ne abbiamo e in questo momento siamo completamente fermi ripeto neanche lavorare a mezzogiorno si passa proprio allo zero più assoluto ecco l'avete sentito quindi non solo ristoratori baristi ma anche altre categorie qui a protestare in sostegno del ristoratore se riesco a riconoscere bene tramite la mascherina si tratta di Matteo Grattaroli ecco appunto insegnante di ballo che cosa faranno nel senso aspetteranno un contributo da parte dello Stato questo eventuale fondo riuscirà a salvare anche i mancati incassi di questi mesi ecco che cosa farete adesso aspetterete un contributo da parte dello Stato che cosa vi aspettate il discorso è che il contributo fare piacere per carità ma non risolve il problema come non l'ha risolto nei tre mesi di lockdown io ad esempio lavoro con partita IVA e per me è un bagno di sangue una situazione di questo tipo non è con un contentino di 500-600 euro che uno riesce a far fronte alle spese a rimanere in piedi io penso come tutti quanti gli altri voglio avere il diritto di lavorare ho rispetto per la situazione abbiamo rispetto per la malattia abbiamo rispetto per il virus non siamo siamo assolutamente negazionisti però lo Stato non può chiudere deve trovare il sistema ideale per poter perlomeno sopravvivere non assolutamente chiudere il rubinetto come se niente fosse non è accettabile non si può fare così bene grazie Angelica ci ricolleghiamo più tardi anche perché siamo curiosi di sapere dov'è il sindaco di Pesor se magari verrà lì ad incontrare queste persone che stanno protestando Gambini le volevo chiedere questa cosa hanno telefonato poco fa in regia per dire che ci ha telefonato un cardiopatico ha pure un tumore e dice sono stato abbandonato ora si pensa soltanto al covid anche perché gli ospedali si riempono purtroppo di queste persone che devono essere curate per quanto riguarda il coronavirus e vengono dimenticate dicono così le altre quelle che soffrono di patologie diverse anche il covid ospita la di Civitanova può aiutare in questo senso l'ospedale di Urbino e gli altri della nostra provincia ma vedete io credo proprio di sì io spero che non accada quello che è successo a marzo quando a Urbino che è ospedale no covid sono arrivati purtroppo per la chiusura inaspettata da Pesaro o da altre città al protocorso di Urbino facendo veramente un disastro all'ospedale di Urbino allora io mi sono assicurato proprio questo pomeriggio con il dirigente dell'Asur col dottor Magnoni che avevo saputo che portava a Urbino qualcuno che aveva problemi punto cardiaci e che veniva all'ospedale di Urbino mi ha detto che assolutamente non avrebbe fatto perché noi dobbiamo sicuramente in questa fase salvaguardare delle strutture ospedaliere nel modo più assoluto perché noi non possiamo far morire non di Covid ma di qualcos'altro le persone quindi per altre patologie quindi questo è la cosa da scongiurare ma io vorrei dire un'altra cosa non so se tutti si ricordano quando l'ex presidente Ceriscioli insieme a Bertolaso ha aperto il centro a Civitanova tutti a criticarlo dai compagni suoi di partito e soprattutto da questa provincia pochissimi hanno difeso quella scelta una scelta assolutamente che era da fare però c'è da dire anche che manca il personale in questi mesi non è stato fatto nulla per assumerlo ma il personale probabilmente si riesce a reperire e magari in questi giorni il nuovo presidente regionale che sta sul pezzo da appena insediato ma se non avevamo quei cento posti io credo che era una tragedia quindi dire che non si doveva fare e dire io dico un'altra cosa siccome ci ho parlato personalmente con il dottor Bertolaso avere persone come queste è utile lo dico agli amministratori nuovi della regione perché veramente aver fatto la critica all'ex presidente Ceriscioli che notoriamente non dalla mia parte politica ma credo che in quel momento abbia fatto una scelta avveduta e oggi se non riscontriamo quelle scelte perché fare le scelte e mi ricordo ah ma non c'è più il covid è finito e quindi credo che questo sia un aiuto alla nostra regione per uscire da questa seconda ondata che speriamo sia meno di quello che magari ci auspichiamo quindi ecco io credo che vadano assolutamente io ho chiesto ieri al presidente al scusate al sindaco di Pesaro che siccome io non sono più da quando sono stato dall'anno scorso quando sono praticamente finito il mio primo mandato non sono più presidente dell'assemblea di Aria Vasta ma noi abbiamo superato tutto il periodo covid senza un'assemblea dei sindaci l'assemblea dei sindaci di Aria Vasta discute proprio sui temi della sanità io ho detto ieri proprio ho sollecitato il sindaco di Pesaro e chiedo agli altri sindaci di sollecitarlo oggi mi ha detto guarda giovedì il prefetto riunisce tutti i sindaci sul tema della sanità quindi neanche in via telematica anche online ecco in via telematica noi sindaci bisogna che ci confrontiamo certo perché è importantissimo che ci confrontiamo perché se le faccio vedere sulla chat dei sindaci uno dice una cosa l'altro dice l'altra io quando chiudo il civitero come fai tu come fai ma non è che è una decisione che si può prendere così in via estemporanea l'assemblea dei sindaci è un organo importantissimo obbligatorio dai decreti della regione quindi dallo statuto regionale ma che a oggi non l'abbiamo costituita non la posso fare io perché non sono più io il presidente quindi la deve convocare il sindaco di Pesaro che è il sindaco con più cittadini però sollecitato verbalmente formalmente oggi mi ha detto che forse la prossima settimana la convoca però ecco è urgente noi sindaci ci dobbiamo confrontare per capire cosa succede a Pesaro mi dispiace che non abbiamo più la possibilità di calibrare perché probabilmente quei quei ospiti di quel ristorante questa sera con tranquillità se stavano a tavola fino alle nove e mezza non succedeva nulla in quel luogo magari in un altro luogo io avevo già programmato di chiudere le attività al centro storico alle 21 perché a Urbino era necessario ecco ritorno a dire quelle cose che ho detto prima però purtroppo sono cose importantissime perché così bisogna che il governo sa che se ha fatto chiudere questi signori e quei ragazzi non hanno più il lavoro per questi due tre mesi quattro mesi bisogna che vengano remunerati perché non si può fare come la prima ondata che sono state solo promesse in grandi linee Sindaco due domande per lei mi scusi la domanda ma gli affitti di bar ristoranti eccetera chi li paga se non si può lavorare o meglio lavorare con questi limiti che cosa ci dice qui nessuno abbassa gli affitti qui i privati come dicono i telespettatori è chiaro che i privati non vogliono abbassare gli affitti il governo è intervenuto non so se sono arrivate le risorse comunque con delle percentuali del 40% sull'abbattimento dell'affitto cioè in alcuni luoghi quelli noi a Urbino abbiamo attraverso il nostro legato al Bane che in molti locali ha fatto l'abbassamento per il periodo del covid però ecco è chiaro che lì è un rapporto commerciale tra due privati è difficile intervenire se non con dei provvedimenti che adesso non sono immediati sono uno studente universitario di scienze biologiche che questa mattina si è recato presso il cinema ducale per seguire le lezioni all'arrivo ci siamo trovati in una situazione spiacevole ovvero il cinema era chiuso ovviamente nessuno sapeva nulla purtroppo questo è un fatto increscioso e legato alla poca chiarezza dei dpcm il quale oggi prevedeva la chiusura dei cinema ma che in realtà il suddetto locale momentaneamente è adibito ad un'aula universitaria che cosa ne pensa? ma credo che questo è un disguido perché quell'aula quel cinema non è più un cinema ma un'aula noi a Urbino abbiamo anche per far fronte ai distanziamenti e delle lezioni per avere in presenza gli studenti che poi magari sarà uno sforzo vano però abbiamo istituito delle sale nuove abbiamo dato addirittura abbiamo trasformato il bocciodromo in aula un'aula di mille metri per poter far permettere all'università di fare lezioni in presenza per poter avere quell'economia degli studenti che a Urbino è fondamentale quindi abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili abbiamo pensato al palazzetto ma che non era idoneo per un motivo di audio insomma c'è stato un lavoro grosso in questi mesi sia per gli istituti superiori che per le università però i disguidi come quelli di oggi in questi momenti possono capitare ecco io credo che spero che domattina non ci sia la stessa la stessa la stessa problematica abbiamo altri messaggi per lei però andiamo ancora un attimo a Pesaro per vedere che cosa sta succedendo Angelica chiedo anche alla regia se abbiamo le immagini che abbiamo girato prima della nostra diretta ovvero la polizia la polizia che stava entrando nel locale per fare i dovuti controlli la polizia sta dentro Angelica a te che cosa sta succedendo si si sta succedendo che le forze dell'ordine sono ancora dentro e stanno facendo tutti i controlli al ristoratore la gente che stava cenando qui è già uscita stanno andando a casa hanno finito di cenare e nel frattempo le forze dell'ordine stanno controllando il ristoratore ecco vediamo in questo momento come potete vedere la gente sta andando via sento però ancora delle urla quindi non tutti sono contenti di questa eruzione delle forze dell'ordine però un controllo credo che sia comunque dovuto esatto sai già se è stata elevata una sanzione c'è stata qualche protesta nessuna sanzione per il momento le forze dell'ordine non ci hanno potuto dire niente di più sappiamo solo che in questo momento il locale è stato chiuso i controlli stanno proseguendo al suo interno ecco invece il sindaco è passato? il sindaco non l'abbiamo visto non è passato ha lasciato anche qualche dichiarazione poco fa su questo argomento leggevo che probabilmente incontrerà queste persone si il sindaco ha fatto sapere si esatto il sindaco ha annunciato un incontro con la delegazione della categoria ha detto sarà un confronto positivo e costruttivo già oggi ho comunicato agli organizzatori che domani sarò disponibile ad incontrare una delegazione delle categorie scese in piazza quindi queste le parole del sindaco Ricci di poco fa bene grazie Angelica vi chiedo di rimanere lì ancora per qualche minuto così ci ricolleghiamo anche a fine diretta sindaco altri messaggi per lei sono un biker Daniele Muflone presidente dell'associazione sportiva i Mufloni Racing Team consigliere provinciale della federazione ciclistica italiana ma anche presidente del programma oltre la bici vorrei sapere vorrei avere informazioni su come stanno procedendo in questo caso sul progetto della regione Marche che ha finanziato 150 mila euro per la realizzazione del progetto Bike Park sulle Cesane e che scade poi alla fine del 2021 inoltre il comune per questo progetto ha cofinanziato l'intervento per 50 mila euro a che punto siete con i lavori e se c'è la possibilità che con questi ritardi del covid potete perdere il finanziamento ci sono no il finanziamento non viene perso perché purtroppo ci sono mesi in cui nonostante le risorse a disposizione non sono stati fatti gli appalti perché appunto adesso per esempio un'altra volta siamo bloccati con gli appalti chiaramente sono risorse che sono a disposizione i periodi di blocco si scivolano in avanti però il rischio è che si vada un po' più lungo anche se sicuramente cercheremo di farlo nei termini fissati però dipende da quanto dura questa pandemia perché io sto facendo i lavori che avevo finanziato nel 2019 il blocco degli appalti del febbraio marzo ha fatto slittare di sei mesi tutti i lavori che erano stati programmati e finanziati nell'anno 2019 quindi diciamo che qualche rischio di slittamento c'è tra poco parleremo anche dei lavori degli interventi che sono in programma vorrei far vedere Regi ha delle foto che si riferiscono ad una mostra che è stata inaugurata nella casa natale di Raffaello perché prima di questo ultimo DPCM il comune ha proseguito nelle varie iniziative dovremmo avere anche altre immagini purtroppo ecco anche in occasione di questo anniversario sono state organizzate dal comune diverse iniziative che purtroppo insomma nei prossimi mesi credo debbano essere annullate così come oggi è stata annullata l'iniziativa inerente alla giornata nazionale del trekking urbano quindi l'amministrazione anche qui ha deciso di rinviare tutto in questo caso in questo caso abbiamo deciso di rinviare tutto stiamo programmando degli eventi delle mostre anzi ho Vittorio proprio mercoledì che per una così un comunicato stampa più che una conferenza stampa perché non si possono fare o comunque si possono fare solo in un certo modo per così presentare il catalogo della mostra che è conclusa quella di Basdassar Castiglione che ha dato grandissimi risultati ma tutte le altre mostre che anche ieri ne è stata inaugurata un'altra alle Gallerie Albani proprio su Steiner quindi stiamo cercando di continuare a lavorare e per fortuna i risultati sono stati ottimi devo dire perché durante l'estate c'è stato un turismo massiccio rispetto anche a quello che ci si aspettava perché poi non eravamo così sicuri siamo andati avanti con gli eventi anche con gli investimenti proprio perché questo avvenisse voglio dire anche io credo che le amministrazioni non Urbino o Pesaro tutti sono stato molto disponibili noi abbiamo dato tutti gli spazi possibili agli esercenti all'esterno gratuitamente come era previsto e anche di più proprio per venire incontro agli esercenti però capite bene che su certi argomenti credo che non si possa andare oltre io prima sentivo il sindaco di Pesaro che diceva che domani incontra gli esercenti io non so cosa potrà dirgli ma di fronte a un decreto del primo ministro non credo che possa fare qualcosa ecco al di là della buona volontà o della così delle possibilità che un sindaco possa avere credo invece che andava bisognava pensarci forse un po' prima vedersi insieme e spingere il governo a dare responsabilità alle amministrazioni locali adesso credo che sia difficile possiamo ancora farlo mai dire mai non è mai troppo tardi anche perché ricordiamo siamo 24 giorni forse è un'azione che noi dovremmo fare sul livello governativo attraverso le nostre regioni che stanno lavorando ogni giorno appunto prima parlavo con il nostro assessore Stefano Aguzzi mi ha detto che in regione sono 5 giorni che fanno le giunte ogni giorno proprio per discutere sulle misure da adottare ma sui provvedimenti da prendere perché ovviamente in questo momento il covid copre tutte le altre attività che invece vanno portate avanti vediamo in questo momento ancora le immagini che ci arrivano da Pesaro possiamo tenere assolutamente una finestra sempre aperta così insomma vediamo quello che sta succedendo in questi minuti che succederà un altro messaggio per lei ma prima volevo farle questa domanda visto che ha parlato di Aguzzi quindi questa giunta che da poche settimane è stata nominata che cosa ne pensa della distribuzione degli assessorati e anche che cosa si aspetta adesso dalla regione mi aspetto che veramente facciano un buon lavoro devo dire che la nostra provincia è stata così premiata oltre le aspettative perché abbiamo tanti assessori tanti consiglieri e soprattutto tante persone capaci io almeno li giudico in questo modo però come quelli che mi hanno detto ma non festeggiate che avete vinto le elezioni perché io ho sostenuto apertamente questo candidato presidente dico magari facciamo una festa fra 3-4 anni quando abbiamo visto come operano perché al di là della politica serve agire e fare le cose perché veramente abbiamo bisogno di far ripartire l'economia di questa regione non è il momento più adatto di parlare di queste cose purtroppo però le cose vanno programmate e chiaramente chiedo alla giunta regionale veramente di mettercela tutta e soprattutto di coinvolgere gli amministratori locali perché dobbiamo tutti dare il nostro contributo perché l'economia di questa regione questa regione riparta vorrei sapere dal sindaco come mai gli aiuti per gli affitti non sono stati ancora erogati alle persone in difficoltà mentre la regione ormai ha già dato i soldi in mano al comune da ormai due mesi ma io che noi abbiamo avuto i soldi in mano da due mesi adesso per me è una notizia nuova me la dà lei adesso quindi il telespettatore ne prenderò atto ma diciamo che sicuramente ci sono i tempi tecnici per erogarli devo dire quando sono arrivati i soldi per gli aiuti le famiglie in difficoltà noi il comune di Urbino è stato il primo a erogare il finanziamento per la spesa delle persone in difficoltà quindi sicuramente i nostri uffici anche se diciamo chiaramente che anche le amministrazioni pubbliche con lo smart working che è andato avanti non è che secondo il mio punto di vista diventiamo più operativi proprio oggi mi dicevano che anche in regione purtroppo il lavoro da casa ha fatto sì che gli uffici sono vuoti e questo credo che rallenta un po' il lavoro rallenta molto il lavoro io non sono di quelli che pensano che è uguale non è uguale essere in presenza essere sul pezzo diciamo in presenza anche con i colleghi per far attivare le pratiche Sindaco le chiedono un chiarimento anche per le visite ai cimiteri rispondiamo subito anche a questo telespettatore ma mi dicono che siamo di nuovo in collegamento con Pesaro vediamo se è successo qualcosa nel frattempo si sono uscite le forze dell'ordine Angelica a te sì le forze dell'ordine sono ancora qui la gente è ovviamente già tutta uscita dal locale che è stato sottoposto a chiusura come potete benissimo vedere da questo cartello che è stato attaccato al vetro locale sottoposto a chiusura dal 26 10 2020 fino al 31 10 2020 quindi 5 giorni di chiusura quindi probabilmente quindi 5 giorni di chiusura per il locale di carriera questa è stata la decisione delle forze dell'ordine cerchiamo di capire anche se è stata elevata una sanzione come è successo anche qua a Fano quindi chiusura per 5 giorni e sanzione nel nostro caso da 400 euro che se pagate entro 5 giorni si riduce a 280 però vediamo qual è stata poi la decisione in quel caso specifico quindi le persone sono uscite ormai sono andate sì non c'è stato detto al momento le persone sono uscite sono andate tutte a casa il locale è stato chiuso non c'è stato detto se è stata fatta una sanzione al ristoratore però la cosa certa che possiamo testimoniare come vedete è che qui intorno non c'è più nessuno soltanto le forze dell'ordine che stanno finendo di fare i controlli grazie Angelica a fra poco sindaco dicevamo per i cimiteri un chiarimento per le visite le chiedono e poi aggiungo io se sono previsti anche degli interventi di ordinario o straordinario manutenzione visto che sta per arrivare l'1 o 2 di novembre quindi commemorazione dei defunti e festività di ogni santi gli interventi di ordinario e straordinario li facciamo in continuo però volevo fare una battuta su questo tema del locale che purtroppo ha traslitto l'ordinanza e non credo che le forze dell'ordine abbiano facoltà di fare o non fare ecco io credo che sia un dovere non è che sicuramente questo locale purtroppo verrà chiuso però l'entità della multa può essere scelta l'entità della multa comunque c'è il minimo e il massimo comunque il minimo deve essere applicato quindi questa è la discrezionalità che possono avere che poi non riguarda neanche le forze dell'ordine mi preme dirlo perché se no rischiamo di dare una responsabilità di chi non è di chi solo deve fare il controllo e deve applicare purtroppo la norma e quindi ecco a chiarimento perché a volte può essere non è che le forze dell'ordine hanno la discrezione di fare o non fare magari in un'altra condizione se il ristoratore ha chiuso dieci minuti dopo fai finta di non averlo visto ma se uno chiuda le nove anche perché insomma è evidente in questo caso la violazione della legge non è che poteva essere diversamente questo mi preme dirlo perché le forze dell'ordine devo dire che fanno un lavoro complicato come sappiamo tutti allora nel nostro cimitero noi abbiamo programmato noi non abbiamo un cimitero ma abbiamo bensì diciotto cimiteri nel comune di Urbino questo magari non tutti lo sanno perché purtroppo il comune di Urbino ha pochi abitanti ma ha un territorio grandissimo con tante frazioni tanti borghi che ognuno ha il proprio cimitero al cimitero monumentale dove si o altri cimiteri più diciamo frequentati per appunto la festa dei santi morti prevederemo anche la misurazione della temperatura l'entrata un controllo e la sanificazione chiaramente nei momenti di maggiore afflusso anche qui però ecco rispetto a quello che dicevo prima forse un confronto fra sindaci in una conferenza sicuramente aiuterebbe a uniformare i comportamenti per determinate misure da adottare quindi per il momento insomma non ci sono delle particolari restrizioni non ci sono previste chiusure non ci sono previste altre misure più restrittive rispetto a quelle che conosciamo dell'obbligo della mascherina e distanziamento e quant'altro l'amministrazione sta portando avanti anche un progetto complessivo di riqualificazione dei collegamenti viari come stanno procedendo i lavori se ci sono anche altri interventi in programma beh interventi in programma ci sono i lavori in corso abbiamo completato un lavoro di sistemazione di una strada di mazzaferro con il relativo camminamento pedonale stiamo facendo i lavori di completamento abbiamo riniziato i lavori di completamento a Gadana il parcheggio davanti alla scuola il collegamento diciamo da Gadana verso Urbino stiamo appaltando i lavori per il progetto Punta Armellina Trasanni per la nuova sede sala civica di Trasanni quindi stiamo procedendo chiaramente con fatica anche per i motivi che dicevo prima che stiamo facendo ecco i lavori di straordinaria manutenzione delle strade quindi asfaltature anche nella zona del vecchio mulino ecco sì quelli sono stati completati ormai sono stati completati sono stati completati e inaugurati perché abbiamo diciamo la via principale che porta dentro la città che arriva sotto i torricini i nostri torricini era veramente in condizioni penose e adesso veramente abbiamo un ingresso alla città veramente decoroso e degno della città di Urbino ok mi dicono che dobbiamo collegarci ancora con Pesaro vediamo se riusciamo a chiudere questo collegamento se è successo qualcos'altro Angelica ci senti? attendiamo ancora qualche istante il collegamento dove c'è per noi Angelica Panzeri insieme all'operatore Stefano Barnesi Angelica sì Simona vi sento nel frattempo le forze dell'ordine sono andate via come come avete saputo il locale è stato chiuso per cinque giorni al ristoratore è stata elevata una sanzione di 400 euro quindi dovrà rimanere chiuso fino al 31 ottobre e non potrà riaprire diciamo bene Angelica grazie per questa tua corrispondenza e un saluto insomma anche al nostro operatore grazie per tutti gli aggiornamenti buon lavoro buona serata Sindaco allora dicevamo di questi lavori c'è stato tra l'altro anche un protocollo un protocollo di intesa che è stato firmato tra l'istituto centrale per il patrimonio immateriale e il comune di Urbino per valorizzare un po' quello che è il patrimonio culturale immateriale su che cosa lavorerete suppongo che debbano essere fatti i progetti sì abbiamo firmato questo protocollo con l'IVA appunto perché veramente vogliamo lavorare insieme per valorizzare tutto il nostro patrimonio architettonico il valore della nostra città perché su questo puntiamo sul futuro della nostra città su questi temi quindi è stato firmato questo protocollo il meno è fatto adesso iniziamo a lavorarci per appunto arrivare anche al piano strategico che l'UNESCO ci impone e che ci ha anche finanziato quindi stiamo è stata la polemica anche su Boeri e non Boeri no? se è noto e io credo che invece è stato un capitolo chiuso per me però ecco che sicuramente deve aprire invece un dibattito e una collaborazione con l'università con tutti gli attori della città l'Accademia Raffaello con tutti per mettere insieme un piano strategico della città UNESCO che possa veramente rilanciare la città anche soprattutto al punto di vista della strategia economica della nostra città perché la nostra città si è sviluppata nel tempo il centro storico sto parlando soprattutto sull'università gli studenti la presenza dei studenti abbiamo bisogno di riconvertire la città anche al turismo perché abbiamo poca recettività l'obiettivo è quello di far così far anche albergo diffuso bed and breakfast al centro storico affittacamere per i turisti e non solo per gli studenti perché abbiamo bisogno di entrambe le economie perché questa è la nostra industria può servire anche per evitare uno spopolamento e quindi avere appunto studenti turisti residenti residenti sì sicuramente stanno tornando alcuni appunto qualche residente non esageriamo perché non è facile far tornare le persone al centro però veramente su abitazioni di qualità molte persone ci stanno puntando quindi questo questo fa molto piacere ci sono diversi casi di famiglie che sono tornate a abitare al centro storico però ecco abbiamo bisogno di diversificare e di diciamo stiamo in procinto anche di fare una modifica al dimensionamento degli appartamenti perché da noi c'è una regola che fissa a 70 metri quadri minimi vogliamo tornare a una tipologia più piccola anche perché la famiglia di due persone due ragazzi comprare oltre 70 metri quadri al centro storico è un costo non da poco anche questo limita diciamo l'accesso l'accesso alla città come residenza Sindaco andiamo un attimo in pubblicità e poi torniamo qua per fare una chiusura insieme a lei e torniamo a parlare di un ultimo aggiornamento anche con Pesaro e poi i saluti finali a tra poco Bentornati in diretta a Primo Cittadino sono insieme al sindaco di Urbino Maurizio Gambini prima di andare a leggere un post che ha pubblicato sul profilo Facebook il sindaco di Pesaro Matteo Ricci un'ultima domanda per lei di un terrespettatore che vuole avere informazioni sulla rotonda di Porta Santa Lucia direzione ospedale strada messa molto male può essere sistemata sindaco che cosa rispondiamo? stiamo appaltando il lavoro purtroppo è un po' in ritardo per il discorso Covid ma diciamo che è un lavoro che era programmato in queste settimane adesso si ritarda qualche giorno stessa cosa per la biblioteca Lilliput che dicono che ancora non è può riaprire perché per il Covid non è opportuno farlo fino a fine anno abbiamo deciso così poi le chiedo un commento su quello che ha scritto Ricci ciò che sta accadendo alla macelleria è gravissimo ha scritto un conto è manifestare legittimamente e pacificamente un'altra invece è fare queste pagliacciate pericolose contro la legge polizia locale polizia di stato eccolo qua i carabinieri sono già sul posto e ho chiesto al prefetto massima durezza contro un atteggiamento inaudito a Pesaro la legge si rispetta sempre a maggior ragione durante una pandemia tra l'altro questa iniziativa infelice con questa iniziativa si rischia di rovinare la manifestazione di tante persone che hanno espresso in piazza il proprio disagio e la propria paura per il futuro Ramini come commenta queste frasi questo commento di Ricci non credo cioè sicuramente è giusto protestare come dice Ricci in piazza e non fare cose però ecco questo ristoratore che ha preso si è preso la responsabilità di fare un'azione come questa non si può dire che è una pagliacciata mi pare ecco un atteggiamento improprio sicuramente non sono cose da fare perché ne pagherà le conseguenze però purtroppo la disperazione a volte comunque porta a queste cose non è che si può criticare così a cuor leggero io credo che invece bisognava pensare che è chiaro che le sei del pomeriggio un ristorante non può chiudere far chiudere un ristorante alle sei del pomeriggio è veramente portarlo in giro prenderlo per i fondelli sarebbe stato meglio dire si chiude alle tre del pomeriggio oppure si chiude alle nove di sera perché chiaramente magari di notte è difficile controllare ecco bisognerà secondo me gli atteggiamenti giusti sono avere delle misure che le forze dell'ordine possono controllare questo sarebbe stato più corretto però purtroppo la normativa c'è e sicuramente non si può fare come quel ristoratore della macelleria che si è presa la responsabilità e quelli anche i suoi clienti di fare un'azione come questa che non va fatta che non si possono fare ovviamente però non si può dire che una persona che è disperata a volte fa delle azioni che non sono controllabili è difficile quindi ecco criticare è facile dico sempre perché noi lo stipendio anche se io non vivo di politica lo prendiamo invece chi lo dico in prima persona perché questo va detto no? ecco bisogna sempre pensare che la disperazione a volte non si sa cosa può portare quindi avere rispetto soprattutto delle persone che vedono davanti buio nero noi dobbiamo aiutarli a capire in che direzione andare ed essere seri sulle azioni che si fanno lo dico al governo centrale bisogna assolutamente farlo perché veramente è una situazione più grave di quello che noi possiamo pensare perché ormai c'è stata una chiusura del primo lockdown di marzo adesso le persone sanno cosa vuol dire chiudere e quindi sono più consapevoli della difficoltà che stanno affrontando che avranno davanti quindi dobbiamo aiutarli noi a stare uniti a stare insieme e vedere di fare le azioni che possiamo fare per farli superare questo momento non con delle chiacchiere ma con delle cose concrete secondo lei sindaco trascorreremo un Natale tranquillo? io me lo auguro mi auguro che queste azioni che stiamo mettendo in campo che il governo sta mettendo in campo portino dei risultati però io credo che non dobbiamo aspettarci che quest'inverno ci sarà l'azione che possiamo fare un contenimento ecco Natale lo dovremmo passare a casa e questo vuol dire un'altra ammazzata all'economia perché sappiamo bene che il Natale invece è il momento dove le attività commerciali e artigianali l'industria lavora per il Natale c'è tutto un lavoro dietro il Natale che purtroppo credo che dovremmo riconvertirlo e magari fare le nostre cose a casa magari quelle cose che non spendiamo per andare in ferie o per andare fuori le spendiamo per qualcos'altro l'importante è spendere dico sempre cerchiamo di capire spendere bene spendere in modo pulato aiutando le attività locali però ecco per tenere vive tutta l'economia del nostro paese quindi questo è l'obiettivo quindi speriamo che sia un Natale veramente di speranza che finisca questa pandemia e ci possa ritornare a lavorare serenamente sindaco chiudo con lei con questo messaggio con molto piacere ho seguito il vostro servizio complimenti al sindaco di Urbino per le esaustive risposte date una brava persona e capace grazie ancora noi ringraziamo il primo cittadino Maurizio Gambini grazie per essere stato nei nostri studi cerco di sbagliare il meno possibile che non è facile grazie ancora e grazie anche a tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito grazie alla truppa in esterna a Riccardo Sora a Cristiana Guerra invece in regia fra poco andrà in onda al telegiornale di mezzasera l'informazione torna anche domani mattina alle 7 con la nostra rassegna stampa Occhio ai giornali insieme al direttore Marco Ferri buona serata grazie a tutti